Bene, se le vicende dei personaggi a volte noti e sovente nemmeno... ...che animano le attività, ecco, notturni di questo locale, per dire la gente che dà da bere... ...se questi personaggi godessero di un qualche interesse presso di voi, lasciate che io vi presenti queste immagini. Questo documentario vi mostra una sfida tra due beni, due compresse, che sonorizzano dal vivo uno spezzone di film. Pensate che un'associazione culturale torinese, dal 2005 al 2006, organizza tantissime serate nei locali, ecco... ...e anche questi content... ...delle vere e proprie gare, dei concorsi in cui agli artisti veniva chiesto di volta in volta di sonorizzare delle immagini... ...come nel caso di Duel, oppure canzonare un titolo, come nel caso della Base 05. Le semplici riprese di questi appuntamenti sono fatte in stile esplicitamente amatoriale. ...e forniscono il materiale per un ascolto delle forme che la competizione può assumere. E' come se i protagonisti di questa galleria di parole, chiacchiere e musica nella quale ci stiamo per addentrare... ...competendo in una competizione ci offrissero domande. ...e del resto che cos'è una canzone se non una domanda? Le cose più belle della vita arrivano con le domande. Buona visione, buono sconto.